Salve, tifosi rossoneri. Dal Milan arrivano notizie fresche che potrebbero movimentare il mercato dei trasferimenti. Alexis Seilemakers, che ha brillato in precampionato, ha attirato l'attenzione di Paolo Fonseca, ma un possibile scambio con la Juventus è ancora in alto mare. Prima di continuare, ricordatevi di lasciare il vostro like, di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche per rimanere aggiornati su tutte le novità. Dopo il ritorno dal prestito al Bologna, Seilemakers è stato un giocatore chiave nella preparazione della nuova stagione, guadagnandosi gli elogi di Fonseca, che vorrebbe tenerlo in squadra. Tuttavia, secondo quanto riportato dalla Repubblica, via Milan News, l'allenatore della Juventus Cia Giumotta è ancora interessato a portare Seilemakers a Torino. Anche se l'affare sembra improbabile, non si esclude la possibilità di uno scambio con Federico Chiesa, che non rientra più nei piani della Juventus. Chiesa sarebbe un rinforzo importante per l'attacco del Milan, portando versatilità e occupando un posto, formato per associazione e nella squadra, che libererebbe spazio per altri acquisti strategici. Nel frattempo, la decisione di Fonseca di tenere o meno Seilemakers sarà ancora più evidente nella partita di stasera, contro il Torino, dove potrebbe essere nominato nella formazione titolare. Ora, tifosi del Milan, vogliamo sapere cosa ne pensate. Pensate che uno scambio tra Seilemakers e Chiesa sarebbe vantaggioso per il Milan? Lasciate un commento qui sotto e discutiamo delle possibili implicazioni di questo affare. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche per non perdere nessun dettaglio di questa, emozionante saga di trasferimenti. Andiamo insieme, rosso-neri. Alla prossima e, come sempre, Forza Milan!